Sai, è bello che tu per me ci sia sempre. Non guardare le tette, non lo fare. Sai che sto passando un momento un po' particolare. Non guardare, puoi farcela, noi siamo più forti. Da quando Vincenzo mi ha lasciato. Brigitte Bardot Bardot Io sono... sono un po' morta dentro. Ai ai caramba, ai ai caramba. Dovevo ascoltarti quando mi dicevi che ero uno stronzo. Brava, accorgertene un anno dopo però è da testa di caccia. Che mi tradiva con Betty. Ma si può tradire te con Betty? Cioè lei è... Piatta come un tavolo da cucina, tu invece hai due bei palloni da... Basket. Basket? Che c'entra il basket? Mi piace, mi piace il basket. Ci stai facendo scoprire, coglione! Anche a me. Gabri, tu sei diverso dagli altri ragazzi. Adesso ti prenderei e ti farei. Tu non sei ossessionato dal sesso. Oddio, ha detto sesso? Non stavo ascoltando. Vabbè, nel dubbio mi inizio a spogliare. Gabri, che fai? Lo vuoi fare vestiti. Fare che? Inventa qualcosa, inventa qualcosa! Vincenzo era un porco. Ti tradiva. Hai ragione, era un maledetto porco! Hai proprio delle belle tette. Vedi, ho deciso di parlare con te perché... Perché? Perché... Perché? Perché... Perché? Perché... Parla cazzo! Perché sei il mio miglior amico! Vincenzo ti tradiva. Era un porco. Sì. Questo me l'hai già detto prima. Comunque tu per me ci sarai sempre, vero? Se le dico di sì, magari... Un giorno ci ripensa. Sempre. Sarò sempre con te. Ah, non so se te l'ho detto. Stasera esco con Manuel, il tuo conquilino. Quanto è dolce! Ma vaffan***o tu e quel c***o di Manuel, sì, hai capito bene, quel c***o mi avete rotto le c***e! Ah, Manuel. Un bravo ragazzo, vero? Sì! Un bravo ragazzo! Mi avete rotto le c***e! Sì, lo è. Gabriele, tu sei e sarai per sempre il mio miglior amico!